Tre le persone denunciate per guida senza patente, sette quelle risultate positive all'alcol test. Discreto bilancio per la Polizia Stradale di Ragusa e Vittoria nell'ambito dei controlli per prevenire le stragi del sabato sera nel territorio provinciale. I controlli sono stati effettuati nelle fine settimana appena trascorso, nelle prime ore di sabato e domenica, nelle città di Ragusa e Vittoria, nella frazione di Marina di Ragusa, ma ancora Pozzallo e Donna Lucata. Quattro le persone per cui è scattata la denuncia penale, si tratta di due ragusani, rispettivamente di 34 e 23 anni, perché trovati con un tasso alcolemico superiore alla soglia consentita, un tunisino di 48 anni, già con precedenti per guida in stato di ebrezza, e una ragusana di 23 anni. Per altri tre sono scattate le sanzioni amministrative, cioè un ragusano di 19 anni neopatentato, un vittoriesi di 24 anni e un altro ragusano di 23 anni. A tutti è stata ritirata la potente. Altri controlli sono stati effettuati nei comuni di Comiso, Vittoria e Ragusa e nella località di Camarana, sono stati fermati due rumeni ed un tunisino alla guida di veicoli, pur non avendo mai conseguito la patente, motivo per cui sono stati denunciati per guida senza patente. La polstrada provinciale fa sapere che nel pomeriggio di oggi e nella mattinata di domani, verrà impiegato il telelaser sulle strade per Marina di Raguse e sulla Modica Pozzallo, sempre nell'ambito dei controlli per prevenire le stragi nelle strade provinciali.